Ciao a tutti! Oggi parliamo dell'avverbio. L'avverbio precisa modifica al verbo un aggettivo, una frase. Si dividono in avverbi di modo, di tempo, di quantità, di luogo, interrogativi, di affermazione, negazione e dubbio. Di modo, bene, male, cioè volentieri, di tempo, adesso, ora, oggi, ieri, allora, sempre. Di luogo, qui, lassù, lì, ovunque, vicino, di quantità, poco, molto, nulla, quasi. Di affermazione, sì, certamente, certo, di negazione, no, nemmeno, neanche, di dubbio, forse, magari, quasi. Per distinguerli, ci dobbiamo fare delle domande. Di modo, come, di tempo, quando, di luogo, dove, di quantità, quanto. Il video si conclude qui. Ciao!